Scusate Orario, io sono estere fatti, io vengo qua di storia, ma dovete transenare la gente. Togli la musica, dovete transenare la gente, perché? Perché si transena la gente? Avete paura di me? Non capisco quale, io non ho paura di voi. Allora perché c'è questa distanza di sicurezza e ci sono le televisioni in primi mezzo a voi? Bravo! Bravo! Forse strano per la polizia, perché sono momenti strani, nelle piazze ci giriamo noi, ci giro solo io, ho visto i simboli finalmente, hanno accettato quel buonsenso, è venuto fuori, è venuto in alto, è venuto in alto, ma voi non sapete cosa abbiamo passato? Le transenne, guarda, se io dovessi fare riferimento alla nuova quest'epoca, negli ultimi dieci anni, il simbolo che metterei è la transenna, la transenna che spazia, che entra dentro, che delimita, che sceglie. Noi siamo andati a depositare il simbolo con le transenne davanti al Viminale, hanno aperto, tre giorni prima di venerdì, hanno aperto, non l'hanno detto a nessuno, hanno messo le transenne, il segno era quello, la transenna. Il Viminale si è espresso con la transenna, non ha detto venerdì alle 8 si depositano i simboli, ha detto, da, c'è la transenna. E noi siamo andati nella transenna, come siete noi, ci siamo transennati da soli, ci siamo messi lì tre giorni, notte, pioggia, vento, i ragazzi sono stati formidabili con la polenta, sembravamo degli emigrati messi lì davanti al Viminale. Una fila pazzesca di gente, i pirati nel mio condominio, quelli caraici, poi c'erano dei simboli pazzeschi, c'era la democrazia atea, c'erano tutte le cose, eravamo tutti lì, e sembrava una coda, e poi alla fine, venerdì alle 8, da, tolgono la transenna. Allora i primi che c'erano, come l'iPhone 6, i primi che arrivano a depositare, questo è il nostro paese, questo è il nostro paese, non c'è più nulla, non c'è più niente, non capisci perché fanno queste regole così, quando basterebbe un po' di buonsenso, arrivi con un simbolo, il simbolo, cosa c'è dietro questo simbolo? Ci sono queste persone, ci sono 420 consiglieri, 4 consiglieri regionali, abbiamo 15 parlamentari del Parlamento Siciliano, non è un simbolo inventato messo lì, no? Stiamo battagliando e dando sangue, forse non ci vogliono dentro, perché se sanno, se sanno e lo sapranno, se noi entraremo dentro il Parlamento e il Parlamento non sarà più lo stesso. Signori, questo ve lo prometto, ve lo prometto signori, lo apriamo come una scatola di sardine, vi faremo vedere tutti gli inciugi, i giuggetti, vi faremo vedere chi gestirà l'acqua, i rifiuti, le multiutility, dove vanno i soldi, dove vanno negli appalli, il cemento, vi faremo vedere tutto. E allora rubare, rubare, eh, cari amici, quando gli metti un riflettore di latte, ma diventa per bene, noi siamo un disinfettante naturale. E abbiamo fatto tutto a costo zero, non abbiamo tirato fuori una lira, non c'è stato, non una lira, guarda, una lira, poi dicono che io sono contro l'euro, ma ce l'abbiamo... Allora, non abbiamo speso un euro, tutto senza chiedere soldi a nessuno, noi non abbiamo preso rimborsi elettorali. Allora, se avete visto, cari signori, continuano, e continuano in un modo subdolo, abbiamo manifesti di tre metri per quattro, tre metri per quattro con Gargamella, Gargamella del PD, che poverino, l'Italia guasca, l'Italia è rimesso un po' bencioso, un'espressione triste, anche i colori che sono stati scelti per Gargamella, un po' grigio, sembra una fettina riscaldata di un microonde, del colore... Quindi, chi paga i manifesti? Sono pieni! Chi paga i manifesti? Guardate, è un momento noi, ma i rimborsi non sono stati ancora dati i rimborsi, vuol dire che le banche anticipano i soldi dei rimborsi ai partiti politici e se tu vuoi un euro in presidio da una banca e non te la dà! Non ti dà nulla! Io mi devo calmare! Bravo! Guardate questa persona qua, questo è un ingegnere elettronico, ha uno strato, era, era, adesso viene con noi, gira con noi in forma gratuita, lui sta mandando i streaming in questa piazza, in quanti siamo? 4.000 in più a questa piazza, qui saremo 2.000, non so, siamo 6.000, poi siamo su YouTube, poi siamo su Facebook, poi siamo su un sacco di cose, poi siamo su Twitter, siamo su questi media che loro cominciano a guardare con curiosità adesso, il Papa Twitter, e anche Igor Monti ha scoperto l'economia 2.0, questi economici che vengono fuori fino all'anno scorso, signori, la crisi non c'era, non c'era la crisi, i ristoranti erano pieni, non c'era, questo Paese è fallito, è fallito, allora bisogna fare un sacrificio tutti insieme, io vi propongo un sacrificio di 5 anni, il mio problema è questo, tutti insieme per 5 anni suderemo sangue, ma lo facciamo tutti insieme, e allora invece di prendere i soldi dal basso, cominciamo a prenderli dall'alto, cominciamo a prendere dal Presidente della Repubblica che costa 240 milioni di euro all'anno, cominciamo a prendere, è populista, populista! Ecco, prendiamoli da queste qua, prendiamoli da queste qua, lo facciamo dietro, e avete messo in una piazza con dietro quella cosa, maledetto! mi stanno inquadrando le telecamere, quindi facciamo anche da sponsor, non era in mano ai senesi, l'orgoglio, una delle più antiche del mondo, non era l'orgoglio dei toscali, o dei pasti di Siena, è fallita miseramente, ha comprato una banca a 10 e dopo 6 mesi ha diventato, ha diventato a 4, mancano 6! E allora, vogliamo veramente, veramente farci governare da questa entità? Basta, fuori, basta, ci riprendiamo le nostre cose, ce le riprendiamo, ci riprendiamo quello che vuole la nostra sovranità, non c'è più in voi uno Stato che faccia lo Stato, vuole uno Stato che si riprende le sue concessioni autostradali invece di dare un miliardo e 300 milioni di euro a tronchetti provera qua, ma scusate, hai venuto a un po' quando l'autostrada le ha pagate mio padre e tuo padre! Io voglio le concessioni, deleghi, deleghi, voglio che l'energia sia in mano allo Stato, e lo Stato è diretto dai cittadini, non questo! Ma noi dobbiamo avere, abbiamo uno Stato che funzioni con noi dentro, con i cittadini dentro, gli uffici di collocamento trasparenti, messi in rete che cercano i lavori, e poi tu hai un sussidio per 3 anni in modo che almeno vai a vederti un po' i lavori e non diventi un frustrato tutta la vita! Porca puttana, ecco perché! Ecco perché io sono in questa piazza qua, io ho 6 figli, 3 se ne sono andati in aflavia e io a dire vai, potete anche battere dei coglioni e sono pieno di soldi, chi se ne fredda? Ho la mia villa, mi chiudevo dentro! E chi se ne fredda? Andate, fate bene, lasciate questa merda in Italia! Però la stavo lì con i pantofoni a 65 anni, a invecchiare così, perdevo i denti, ma stai scherzando? Ho aperto i cancelli, sono uscito e mi sono buttato nello stretto di vestiti a nuoto e abbiamo liberato la Sicilia! Allora, vedete che sono tutte palle, sono tutte palle, spread, sono algoritmi in mano della gente paranoica, sono paranoici, l'economia reale, quando si parla di economia non si parla di spread e non si parla di soldi, di banche e di interessi, quando si parla di economia, l'economia è un'altra cosa, l'economia sono le cose, le cose che fai tu con le macchie, a parte toccarti, ma che cose? Sono 5 miliardi di tonnellate di merci che girano il mondo attraverso spinte da un miliardo di tonnellate di petrolio, a questa l'economia! Il mercato, il mercato, quando non hanno, hanno dei gap, hanno dei vuoti, di culture che non sanno più cosa dire, mettono il mercato, il mercato è accolto con entusiasmo, il mercato è depresso, il mercato è qui, il mercato è là, il mercato è un figlio di puttana che racconta delle banne! Basta, il mercato è il capitalismo, hanno sostituito le parole, le parole, la prima truffa sono sempre con le parole, signori le parole, i rimborsi elettorali hanno sostituito i finanziamenti, gli inceneritori, i termoguologizzatori, sono sempre le parole che ci fanno fuori, quindi il Parlamento che cos'è? Il Parlamento non è più niente se dentro non ci sono persone che hai votato tu, non è più niente, ci sono 1.000 parlamentari nominati da 5 seguitari di partito e adesso fanno 160 movimenti e queste persone che si prestano per bene, per non voglio dire fare una foglia di fritto a questi movimenti e dentro permettono di nuovo l'inserimento dei vecchi puttanieri nella politica, basta, non ci cadiamo più, non ci dobbiamo più cadere! E allora però vedere Berlusconi, cioè no, vedere Santoro che va ospita in una trasmissione di Berlusconi, io sono arrivato a tutti, perché sei stupido o sei stupido voi i soldi, allora se voi i soldi voi li ascolti e se voi li ascolti voi i soldi, se no lo sa anche un bambino che se tu prendi uno e lo metti lì contro tutti, uno contro tutti ha già vinto dal punto di vista della comunicazione, ma allora voi li ascolti, allora voi li ascolti voi i soldi, voi gli sponso, voi queste cose qua, ecco qual è la nostra informazione, è questa, non ne frega nulla che voi capiate qualche cosa, il problema non è quello che diranno, il problema che sono ectoplasmi, che sono ologrammi, Berlusconi non c'è, se lo tocchi non c'è scivola, non c'è, è un ologramma, è come parlare con Coccolino, è uno sport di se stesso, non c'è più niente, è morto, sono morti gli scorderetti che non ti invita dei mezzi di informazione, che non ti invita, non vengono in mezzo alle persone, stanno dove è finto, dove il pubblico è finto, dove dietro c'è il pubblico immobile, dove fanno la quinta, dove le domande sono prefabricate o sono dette prima, è tutto finto, dove gli applausi sono finti, dove le risate sono finte, hanno ancora i nastri con le risate di quando facevo un cabaretta in televisione io, sono gli stessi, la metà di quelli che dicono oggi sono morti, ecco, noi non ricordiamo tutta la realtà, la realtà, la realtà è come sopravvivere, cosa fare, gli artigiani, l'articola media impresa, gli agricoltori, cosa mangeremo fra un po', la realtà, la politica è come si muoverà, come mangerà, cosa berrà mio figlio fra vent'anni, non domani mattina, è una visione la politica, allora passiamo dal petrolio alle rinnovabili, ci metteremo vent'anni, cominciamo adesso, vedrai se i posti di lavoro non escono, Dio mio, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, io voglio mettere uno sussidio di cittadinanza, un salario di cittadinanza, porca puttana, per avere il tempo, e la dobbiamo, ma come, mi dico, dove prendi i soldi laureali, mi prendono per il culo, è semplice, ce l'hanno tutti i paesi d'Europa tra noi e la Grecia, allora come fanno? Vediamo, abbiamo 101.000 persone oggi che ci costano 13 miliardi di euro, che perché pistano una pensione che va da 10.000 euro al mese a 90.000 euro al mese, potremmo dire, signori, siamo in emergenza, porca puttana, per 5 anni mettiamo un limite a 4.000, in modo che puoi vivere con 4.000, e con quelli li prendiamo 7 miliardi e facciamo un reddito di cittadinanza, in modo, ma non dico niente di strano, in modo che i giovani non vanno a fare qualsiasi lavoro, qualsiasi lavoro ci vanno a fare i figli della fornera, a fare qualsiasi lavoro, e gemelliamo un populista, sei un populista!